Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video! Oggi voglio fare un video appartenente alla rubrica Parliamo Di ed ho deciso di selezionare dei titoli che mi sono particolarmente piaciuti e che appartengono ad un determinato periodo storico, quindi praticamente dei romanzi storici che mi sono particolarmente piaciuti e che secondo me sono curati nella maniera corretta, ecco. Prima di tutto volevo dirvi che questo è l'ultimo video che giro nel mese di novembre perché dal 1 dicembre al 25 dicembre andranno online i video dell'avvento, quindi i libri dell'avvento. Quindi un video al giorno per tutti i giorni fino a Natale. Ho deciso di ideare dei video che praticamente parlino di libri, chiaramente, per tutti i giorni della settimana, escluso il sabato e la domenica. Praticamente vedrete un video al giorno, da lunedì al lunedì, poi il sabato non pubblicherò niente e la domenica pubblicherò il vlog della settimana appena trascorsa. Quindi ho deciso in questa maniera di integrare vlog e video che riguardassero i libri. Mi sto impegnando molto, ho trovato un sacco di idee, quindi credo che il prossimo anno non avrò mai più idee e altrettanto buone quanto quest'anno. Comunque, veramente, secondo me potrà essere una cosa interessante. Proprio per questo motivo ci tengo a farvi sentire un po' la mia mancanza prima dell'inizio dei video, dei libri dell'avvento e per questo questo sarà l'ultimo video che vedrete e noi ci vediamo ovviamente il primo dicembre con il primo video. Vi ricordo come ogni volta che potete seguirmi su Snapchat e su Instagram, su Snapchat io do un sacco di anticipazioni sui libri dei quali parlerò durante i libri dell'avvento, quindi mi raccomando andate a sbirciare perché lì è l'unico posto in cui vi parlo un po' di questa cosa, ecco perché per il resto sarà tutta una sorpresa. Ok, cominciamo subito con il primo libro. Il primo di cui vi parlo è Una fortuna pericolosa di Ken Follett. Ovviamente di Ken Follett potevo mettere i pilastri della terra in mondo senza fine che sono i romanzi storici più belli che abbia mai letto, ma ne parlo sempre in tutti i video, cerchiamo qualcosa di nuovo. Allora, anche questa storia è bellissima, è inventata nel 1866, diciamo inizio nel 1866 comunque si snoda all'incirca per una ventina d'anni. Siamo in un collegio esclusivo, dei ragazzi decidono di fuggire, insomma di fare una piccola fuga dal collegio per andare a nuotare in un lago, un ragazzo muore annegato in questo lago e quindi non si sa se sia stato un incidente o se abbiano in qualche modo contribuito gli altri ragazzi che erano presenti durante questo fatto. La storia poi si sposta molto più avanti nel tempo, ritroviamo gli stessi personaggi che vivono delle vite anche lontane tra di loro ma che hanno comunque sempre nella mente questo fatto che è accaduto tanti anni prima in collegio e che non li abbandona mai e che quindi continua a perseguitarli anche negli anni. Il romanzo parla di tanti personaggi le cui vite si intrecciano in amori e lotte, soprattutto lotte, troviamo personaggi determinati, veramente pronti a fare qualunque cosa pur di realizzare i propri desideri e insomma ci troviamo in una società in cui i personaggi si alternano tra la vita dell'alta società, quindi le grandi feste, i grandi ricevimenti e soprattutto il mondo dell'alta finanza a luoghi di perdizione, dove i personaggi si ritrovano per soddisfare i propri piaceri sessuali. Quindi c'è un'analisi anche molto particolare della società della fine del 1800 in Inghilterra dove appunto c'era sì un'altra società che però ogni tanto si trovava obbligata ad incontrare anche le parti più basse della società di quel tempo. Bellissimo perché a un certo punto diventa anche un thriller oltre che un romanzo perché ci spinge ad andare avanti e cercare di risolvere il grande enigma che era all'inizio del libro. Il secondo libro di cui vi parlo è Come un fiore di ribelle di Jamie Ford che è l'autore del Gusto prebito dello zenzero. Ho deciso di non nominare il Gusto prebito dello zenzero proprio perché molto spesso compare nei miei video e voglio anche parlarvi di titoli che compaiono meno. Ecco, Come un fiore di belle è ambientato se non erro negli anni 30, sì, in America, in un orfanotrofio dove vive un bambino cinese. Questo bambino è appunto un po' la pecora nera all'interno dell'orfanotrofio proprio perché è cinese ed è l'unico bambino cinese e soprattutto lui non ha mai abbandonato l'idea di riuscire a ritrovare sua madre. Quindi un giorno decide di scappare insieme alla sua amica ad un'amica che è all'interno dell'orfanotrofio per cercare appunto la sua vera mamma. Chi trova? Trova una cantante cinese, piuttosto famosa e diciamo che i loro destini in qualche modo si incrociano. La parte caratteristica di questi anni 30 è sicuramente l'insieme di locali, pub e teatri all'interno dei quali il protagonista si trova a geronzolare e che ci danno un'immagine ben chiara di come erano vissuti quegli anni in America. Quindi troviamo il gruppo degli artisti che vivono la loro vita grazie allo spettacolo, si mantengono grazie allo spettacolo, affrontiamo anche il tema dell'orfanotrofio quindi vediamo quali bambini all'epoca erano senza genitori e come funzionavano gli orfanotrofi negli anni 30 e ovviamente per le strade della città che mi sembra sia siattolo addirittura in ogni caso scopriamo ovviamente, abbiamo un'immagine ben chiara degli anni 30 in America. Non potevo non inserire La moglie dell'aviatore di Melanie Benjamin un libro meraviglioso, un romanzo storico fantastico e soprattutto curatissimo. In questo libro l'autrice praticamente ha raccolto i diari, le lettere, gli scritti della moglie di Charles Lindbergh, colui che ha fatto la prima traversata dell'Atlantico in aereo da solo e che appunto era famoso per questo, era praticamente una star all'inizio del 1900. Viene raccontata la loro storia, il loro incontro, il loro amore, tutto il loro matrimonio dal punto di vista della moglie, quindi come è vivere con una persona che ovviamente ha i suoi pregi e i suoi difetti, oltretutto è una persona particolarmente ammirata nel periodo e che successivamente ha anche appoggiato con grande fervore il regime nazista nonostante loro fossero americani. Il libro è meraviglioso proprio perché l'autrice ha fatto un'analisi spettacolare di quel periodo e soprattutto ha curato tantissimo il suo personaggio. Ovviamente la loro storia è romanzata ma è carica di eventi realmente accaduti come per esempio il fatto che il loro figlio, mi sembra il primo genito, sia stato rapito con la richiesta di riscatto. Ecco, questi sono fatti storici realmente accaduti, ovviamente. Però a parte appunto la parte romanzata, lei grazie alle sue lettere, ai diari di questa donna che appunto le hanno permesso di capire qualcosa in più sul suo personaggio l'ha resa veramente tridimensionale e soprattutto molto veritiera. Quindi noi possiamo realmente immaginarci che questa donna abbia affrontato questi problemi, abbia avuto questi sentimenti e questi turbamenti durante la sua vita accanto ad un uomo così particolare. Un romanzo meraviglioso che consiglio sempre anche in negozio e che non delude mai. Altro libro di cui vi parlo che è un bellissimo romanzo ed anzi secondo me anche un po' giallo storico è La ladra della primavera di Marina Fiorato che vi consiglio tantissimo. Non ne sento parlare molto ma questo libro è veramente veramente molto bello. Allora qui siamo nel 1482 e la protagonista è una modella del poeta Botticelli. Con lui non va molto d'accordo quindi un giorno prima di andarsene, se non ricordo male lui non la vuole pagare o qualcosa del genere, insomma prima di andarsene prende un dipinto, un disegno da una cassaforte. Questo dipinto si chiama La primavera e lei pensa soltanto di rubarlo e poi successivamente riventerlo per guadagnarci qualche soldo. Oltretutto lei è una prostituta, mi sono scordata di dire. Succede che lei scopre subito che ci sono delle persone interessate a questo disegno e che sono disposte a tutto pur di riaverlo. Lei quindi chiede l'aiuto a Guido che è un novizio in un monastero il quale deciderà di aiutarle e di proteggerle e soprattutto deciderà con lei di scoprire perché questi uomini vogliono assolutamente questo disegno e che cosa si nasconde dietro ad esso. Quindi saranno sballottati diciamo per tutta l'Italia, attraverseranno tante città d'Italia che appunto sono descritte come erano alla fine del 1400 per scoprire il segreto che si cela dietro questo disegno e perché no salvare anche l'intera Italia. Insomma è una bellissima avventura ma soprattutto secondo me è resa benissimo la parte storica cioè lei che è una prostituta, vengono descritte le strade dove abita, i suoi comportamenti i comportamenti di lui, le tradizioni, i modi di vivere della gente, gli abiti ecco tutto è descritto con grande accuratezza e secondo me l'autrice si è informata veramente bene sul periodo storico del quale parla. Poi ovviamente è inserito al suo interno dei personaggi particolari, molto caratteristici e secondo me interessanti e ovviamente le ha messi all'interno di una storia vincente che ci spinge ad andare avanti fino all'ultima pagina. Ultimo libro di cui vi parlo è Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons Mi ero ripromessa quest'anno di leggere il secondo volume, purtroppo non ce l'ho fatta quasi tutti i buoni propositi di quest'anno sono andati a farsi benedire comunque in ogni caso questo volume lo devo assolutamente consigliare perché come romanzo storico secondo me è eccezionale indipendentemente dalla storia d'amore che c'è nel suo interno e che secondo me in alcune parti è un po' già sentita e soprattutto un po' troppo sdolcinata per i miei gusti in ogni caso gli anni 40, il 1941 a Leningrado è descritto in una maniera spettacolare perché praticamente l'anno in cui c'è stato l'assedio di Leningrado quindi la città era completamente isolata senza cibo, senza più niente neppure per scaldarsi nelle case con un inverno gelidissimo come è insomma quello caratteristico di Leningrado e i personaggi si trovano a vivere delle situazioni quasi bestiali ecco perché la fame, il freddo e insomma gli stenti chiaramente rendono le persone molto più simili a bestie che ad esseri umani quindi la protagonista si trova a vivere una situazione particolarmente difficile alternata tra appunto una storia d'amore tormentata e una famiglia che piano piano si sta sgretolando a causa appunto della guerra e soprattutto ecco viene descritta la città con ricoperta di neve dove le persone si comportano in delle maniere davvero bizzarre pur di riuscire a trovare qualcosa da mettere sotto i denti secondo me quella parte del libro è la cosa più spettacolare cioè l'autrice si è informata non soltanto in generale sul periodo storico ma su come effettivamente le persone riuscivano a tirare avanti in quel periodo e molto spesso non riuscivano a tirare avanti sicuramente il libro vi piacerà, non c'è persona qui l'abbia consigliato che poi non è venuta a prendere il secondo volume quindi a meno che ecco appunto non sopportiate proprio questa storia d'amore è un po' sdolcinata e un po' da angelo del cielo e il cavaliere coraggioso in ogni caso a parte questo il libro è veramente interessante secondo me è una lettura da fare per chi ama una bella storia carica di eventi insomma di imprevisti che ci spiegheranno ad andare avanti e soprattutto ambientato in un periodo storico molto interessante bene ragazzi il video finisce qui io allora vi saluto e vi ricordo che ci vediamo il primo dicembre con il primo video dei libri dell'avvento ovviamente vi aspetto in tantissimi spero che vi piacciono, che commentiate, che insomma sarete interessati perché ho ideato tantissime cose, tutte inerenti ai libri quindi non mi sono mai discostata, sono felicissima e niente, quindi noi ci vediamo il primo dicembre vi ricordo che tutti i miei link sono sotto e niente, alla prossima, grazie, ciao!